Cinque anni possono essere considerati un successo di presenza e di mercato. Un mercato che, come affermano gli esperti del settore, non conosce crisi. La fiera degli sposi Pescar torna al porto turistico con oltre 80 espositori che confermano un trend positivo di tutto il settore. Vuol dire che questi imprenditori trovano riscontro nell'organizzazione che porta tante persone. Abbiamo avuto migliaia di visitatori in questi due giorni. Questa è la quinta edizione, perciò anche quest'anno confermiamo queste date perché ha avuto sempre un grosso successo. Sfilate, eventi, show, oltre a tutte le attività del settore, a partire dal cake design, allestimenti per il wedding plan e le ultime tendenze moda. Tante novità che io non voglio svelare perché invito tutti quanti a venire 11 e 12 di ottobre al polo espositivo del porto turistico. Tanto glamour, oltre 80 aziende, è un settore che, al contrario di ciò che dicono tutti, non vede assolutamente crisi e questo forse grazie anche a Pescara Sposi. Infine, una buona notizia per i romantici, per coloro che vanno contro tendenza o per chi ha sempre sognato un matrimonio in una location da sogno. Il sindaco di Pescara apre la strada ai matrimoni civili fuori dai palazzi comunali. Sono in corso, ripeto, un po' di approfondimenti perché sostanzialmente si tratta di, ripetere il matrimonio che dovrà essere comunque celebrato in sede civile negli spazi tradizionali, ma ci sarà la possibilità di duplicarlo sostanzialmente con determinate modalità, naturalmente anche in luoghi extra. Certamente la dimensione della spiaggia, la dimensione balneare è un'ipotesi, però non c'è solo questa. L'idea è che dalle ville agli spazi, penso al nostro bellissimo porto turistico, per offrire un'ampia scelta e in qualche modo anche per cercare di movimentare un po' l'economia locale.